Benvenuti su MyFootballJersey! Oggi vedremo insieme una maglia dell'NBA, quella dei Nets, per la stagione 21-22 in edizione Icon nella versione Swingman. Ogni squadra ha i suoi colori e un'identità inconfondibile che la rende unica. Quest'anno, la maglia Brooklyn Nets Icon Edition celebra il 75esimo anniversario dell'NBA con una targhetta speciale e loghi sagomati ispirati a diamanti prismatici finemente tagliati. Direttamente ispirata al modello indossato dai giocatori in campo, la maglia Brooklyn Nets Icon Edition edizione Swingman è realizzata in tessuto premium a doppia maglia e unisce fattura classica ad un fit impeccabile da qualsiasi angolazione. La targhetta cucita in tessuto è stata aggiornata per il 75esimo anniversario dell'NBA. La maglia presenta uno speciale design dello swoosh ispirato ai diamanti e il logo NBA 75. Gli spacchetti sovrapposti sul bordo permettono al tessuto di seguire ogni tuo movimento. sapete che io ho un debole per le maglie scure da calcio e quindi anche per le maglie scure dell'NBA. Per me questa maglia prende 4 stelle fatta bene con tutte le rifiniture al posto giusto, incredibile che si trovi al prezzo che vedete qui sopra, escluso spese di spedizione, un prezzo che vi invita ad acquistare. Vi ricordo che in descrizione trovate i riferimenti per poter acquistare la maglia e che sul sito sono presenti, oltre a questi prezzi incredibili, anche degli sconti progressivi legati alle quantità. Ora vi lascio la parte in cui vedrete la vestibilità, ma se il video vi è piaciuto vi prego di mettere un like e di iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg. Quella che vedete è la taglia media della versione Swingman.